buon pomeriggio a tutti tutte e tutto e sabato 26 giugno 2021 per voi che ci ascoltate nel futuro e siamo a sherwood festival e ci vi trasmettiamo in diretta dal parcheggio dello stadio euganeo avete appena ascoltato la sigla di buonaventura il programma di fumetti e cultura nerd di radio sherwood che insomma oggi appunto va un po in onda in maniera strana in maniera diversa appunto in onda in diretta dal festival infatti non avevamo la nostra filastrocca introduttiva non perché io non l'avessi scritta bensì perché è una puntata speciale in quanto abbiamo degli ospiti speciali abbiamo ospiti con noi nicolò e mattia che saluto e ringrazio di essere qui che sono qui per presentarci oggi edito da becco giallo baggio credere nell'impossibile benvenuti innanzitutto grazie grazie e visto che siamo anche trasmessi sulle potenti casse sui potenti mezzi che ci trasmettono nel parcheggio dello stadio dove il pubblico dello sherwood festival inizia a inocularsi nel festival stiamo per fare questa fantastica presentazione di un libro a fumetti graphic novel dicono i giovani adesso romanzo grafico romanzo grafico dicono i vecchi su roberto baggio personaggio di cui forse avrete sentito parlare e calciatore leggendario approfondiremo appunto la vicenda la realizzazione di questo fantastico volume con appunto lo sceneggiatore mattia e il disegnatore nicolò e grazie per chi ci segue in diretta su radio sherwood sherwood.it e ancora di più a chi ci segue in diretta qui seduto fisicamente di fronte a noi e anche chi ci segue da insomma dalla diretta video ciao mattia ciao nicolò e grano tu sei spento oddio può essere no no sei solo tu che non sai parlare nel microfono ma esatto imparerai come sono spento no tu sei acceso sei acceso di grandi emozioni grazie grazie per essere venuti questo fumetto su roberto baggio è scritto da mattia ferri e ho fatto la posa come ci fosse un applauso che non ci sarà ed è disegnato da nicolò velandi e grazie ancora per essere venuti io voglio rompere subito il ghiaccio con una domanda che mi perseguita diciamo da da lungo tempo da quando ho scoperto baggio come figura come pop possiamo dirlo eh volevo chiedervi secondo voi sinceramente qual è stato l'impatto che ha avuto sulla società sull'estetica anche della società italiana la scelta di roberto baggio di farsi codini secondo me è stata una scelta che ha avuto un impatto mai troppo grande purtroppo ci sono stati troppo pochi bambini che avevano il codino secondo me gli anni 90 però sappiamo abbiamo recuperato forse nicolò ha trovato addirittura mi aveva segnalato lui quindi cedo la patata bollente a lui un cappellino con un accessorio particolare un cappellino sì comunque il nostro direttore e gialluca pino ha fatto cenno che lui ci aveva i codini grande grande no col codino non me lo ricordo me l'hai girato tu mi hai girato un link in cui c'era il cappellino con scritto baggio che colori l'italia e attaccato c'era il codino dietro perché tu potevi avere un impersonale diciamo cioè questo secondo me ci fa capire quanto la passione la leggenda possa portarci a fare cose molto stupido è come il taglio anche quello di ronaldo quello forse ha avuto più successo quello il triangolo al 2002 come no è sì sì quello forse è un bene che non si è andata bene come andata infatti infatti vuoi fare una domanda vera faccio una domanda vera e questa è diretta più che altro nicolò che baggio a brescia è una figura imponente importante se ci fai una una breccia sineddo che di cosa è baggio per brescia è sì come dici te è una leggenda praticamente un mostro sacro ancora adesso e io ho fatto in settimana un murale sa a brescia con dei ragazzi di un quartiere per riqualificare questo muro qua e oltre a vabbè alla leonessa ho chiesto cosa quale altro giocatore avrebbero voluto sul muro e baggio ha vinto a mani basse al di là di questo che comunque fa capire che è rimasta come figura e diciamo ha riportato entusiasmo a brescia per quanto riguarda il calcio e magari in un periodo non troppo felice e quindi ha portato ecco tanto entusiasmo e e tante anche vittorie poi tanti successi comunque quindi è è lì e rimarrà lì come uno dei più grandi di sempre infatti secondo me la storia di baggio come anche quella mi viene in mente di maradona riesce a risollevare un po anche una situazione sociale riesce a iniettare ottimismo nelle persone nella popolazione a luce di questo voglio farvi una domanda che un po il carico da da 100 e non so da quant'è il carico un carico comunque e io non ho mai particolarmente seguito il calcio ok fino a qualche anno fa anche un pochino lo snobbavo poi per fortuna mi sono ricreduto anche grazie alla san precario che tutti voi che ci seguite conoscerete la domanda che vi faccio è perché io che non ho mai seguito il calcio in giovane età conoscevo baggio e non solo lo conoscevo mi è sempre stato simpatico cioè per me baggio in quel mondo lì che io appunto anche in maniera superficiale snobbavo baggio mi è sempre sempre sembrato una un esempio un'immagine una persona che invece rispettavo appunto in questo in questo business alla fine in questa situazione in questo sport che tutto sommato non mi apparteneva perché baggio qual è il suo lascito perché anche in persone appunto che non erano dell'ambiente ha lasciato un'impronta diversa da tanti altri alla risposta breve ci siamo ci abbiamo aggirato anche noi ovviamente nel capire nel cioè dovendo raccontarlo noi partivamo da tifosi ovviamente noi abbiamo vissuto a brescia arrivo di baggio quindi partiamo già sapendo che baggio era oggettivamente il calciatore più amato della storia d'italia noi lo sapevamo però dobbiamo raccontarlo e quindi non trasmetterlo anche un pubblico che magari non lo conosceva non ha mai visto giocare neanche in diretta la risposta breve è secondo me la sua integrità lui è riuscito in vent'anni e passa di carriera a comunque a mantenere diciamo una coerenza un'integrità mantenere sempre alto rispetto per le tifoserie per le persone per cui che sapeva che andavano allo stadio per lui quando lui è andato a bologna nel 98 a gennaio l'inter gli aveva offerto di andare di trasferirsi all'inter baggio la piccola la tifosa dell'inter quindi lui voleva andarci ma c'era stato un boom di abbonamenti quell'anno a bologna per vedere baggio e quindi baggio ha detto va bene ma vengo a giugno finisco la stagione qui perché non mi sento di tradire diciamo questo impegno che ho preso ed è anche un po il motivo per cui è spesso avuto diciamo magari dei degli scazzi con gli allenatori il fatto lui chiedeva sempre rispetto sincerità trasparenza totale dalle persone con cui si relazionava e questa sua integrità lui l'ha portata la portata fino in fondo nel libro per una serie di motivi non siamo riusciti magari a mettere questo questo mio pensiero però io quando guardo gli occhi di baggio che siano una figurina che siano una foto che siano un video vedo gli occhi di una persona che non è mai stata sconfitta secondo me e l'altra cosa interessante come diceva anche nicolò è la persona la l'umanità riuscire a trasmetterlo cioè ricordarsi dell'essere umani quindi del non essere delle macchinette che fanno solo una cosa ma che c'è anche bisogno in tutto un lato emotivo e emozionale da curare baggio in particolare anche questa cosa non lo sappiamo agli anni 2000 lui era nell'estate del 2000 lui era senza contratto era senza squadra è stato aveva finito il contratto con l'inter ed era qui a caldogno nella sua città natale e si allenava lì con la gente del posto e aveva delle offerte aveva ricevuto un'offerta dal giappone che gli dava un sacco di soldi ma lui aveva una famiglia in italia famiglia in provincia di vicenza aveva ricevuto un'offerta anche dalla regina quindi a reggio calabria forse anche dal napoli però lui voleva stare vicino ai suoi figli cioè voleva vedere crescere i suoi figli quando arrivata l'offerta del brescia che era un'ora di macchina agli istanza forse non l'offerta più alta di tutte anche esatto cioè lui ha trovato presente la quadra e quindi ha detto sì vado lì ha trovato anche un allenatore che aveva capito cosa aveva di fronte che tipo di giocatore aveva di fronte quindi cioè gli ha dato lo spazio che che meritava mazzone e quindi ha anche questa cura dell'aspetto umano secondo me è molto importante e lui è riuscito a trasmetterla quindi l'ostinazione per la passione cioè se tu hai una cosa che ti fa stare bene devi farla secondo me devi trovare il modo di farla in qualche modo la notte non lo so cioè col calcio forse è un po' complicato la notte però in qualche modo devi trovare il modo di farla e che perché questa passione poi si lega tra l'altro all'aspetto umano quindi queste sono i grandi insegnamenti tra l'altro l'incontro con Mazzone secondo me è stato veramente una quadra tra l'altro io essendo di Ascoli per Mazzone provo una sensazione simile a quella che provo per Baggio io adesso faccio una domanda più tecnica sul fumetto raccontare il calcio è una cosa non semplicissima quando si sposta dalla televisione cioè il calcio è un gioco di movimento il calcio ha bisogno di essere visto durante l'azione quindi chiedo sia a livello di sceneggiatura quando si imposta questo tipo di racconto per cui tu devi far percepire quello che è il gioco del calcio l'importanza del gioco anche l'importanza della tecnica del gioco e sia sul punto di vista grafico per poi rendere le tavole che siano appetibili soprattutto per quello che magari è un pubblico che non legge abitualmente fumetti ma magari compra il libro perché è su Baggio io tifo Baggio quindi quali sono state queste difficoltà se ci sono state allora a livello tecnico avevamo optato diciamo per una una narrazione molto per momenti quindi il libro è comunque è diciamo pensato quasi come un album fotografico dei ricordi non so se voi li avete in famiglia mia mamma ne ha mille quindi ce li ho ben presenti perché Baggio comunque ha fatto tantissimo in vent'anni di carriera e noi dovevamo riuscire a contenere questa carriera in un centinaio di pagine di fumetto e non è stato facile e allo stesso tempo questa soluzione di avere poche vignette per pagina che andavano diciamo a fotografare nei momenti topici permetteva a Nicolò di esprimersi al meglio con i suoi acquirelli e ci siamo presi ci sono delle azioni che abbiamo deciso di raccontare e ci sono stati due casi secondo me esemplari che interessanti a raccontare uno ci è venuto comodo diciamo delle letture fatte in precedenza anche fondamentali per la nascita di questo libro per esempio il libro su Maradona di Paolo Castaldi quando l'ho letto io leggevo fumetti principalmente di supereroi magari qualche manga ho letto qualcosa il fumetto a libreria diciamo quando ho letto il fumetto su Maradona mi sono detto ok si può fare un fumetto sul calcio comunque Maradona è un supereroe quindi tra l'altro si può fare un fumetto sul calcio e quindi quando c'era questa scena in cui dobbiamo raccontare due dribbling particolari fatti da Roberto due gol epocali il gol alla ciecoslovacchia il gol a Napoli nel 89-90 si è detto beh guardiamo cosa ha fatto Paolo per il gol il più bello il gol della storia ha fatto la Maradona agli 11 tocchi si è detto ok possiamo riprendere questa cosa questa regia molto televisiva che però va a prendere i singoli momenti mentre l'altro l'altra azione che è stata complessa da raccontare che io ci tenevo a inserire assolutamente quasi a se Becco Giallo non me la faceva mettere non facevo il libro a momenti è il gol fatto alla Juventus nel primo aprile 2001 con la maglia del Brescia con il Brescia in svantaggio di un gol a un certo punto Andrea Pirlo un nome non indifferente diciamo ai appassionati di calcio vede Baggio scattare lo lancia un lancio di 50 metri almeno Baggio gli arriva questa palla dall'alto alle spalle e l'incontro arriva a Edwin van der Sar il portiere della Juve un uomo di più di due metri quindi non proprio facile da dribblare e Baggio con un singolo tocco riesce a stoppare la palla e scartare il portiere e io io volevo mettere quell'azione nel libro l'abbiamo messa Nicolò è stato bravissimo a realizzarla io ho visto quel video di il gol 50 volte almeno e non ho ancora capito come ha fatto e nonostante questo Nicolò è riuscito a raccontarla bene quindi adesso passo la palla a lui per capire come ha fatto è tipo un bug di Matrix capito quelle cose lì diciamo che noi siamo come diceva Mattia partiti documentandoci molto sui documentari quindi partendo dai video poi secondo me magari abbiamo non dico esagerato ma anche però sembrava che non riuscissimo un po' o perlomeno per quanto mi riguarda esprimere diciamo il mio punto di vista secondo me come diceva lui in quel gol invece nel rappresentare quel gol siamo riusciti cioè sono riuscito con la sua sceneggiatura a dare una visione un attimo diversa e lì secondo me si fa un po' il salto di qualità e l'ho visto anche poi nelle tavole successive quando magari si parti da una fotografia però non so cerchi di di girare un attimo la telecamera cerchi di immaginarti qualcosa una non so una scarpa in primo piano e ecco il la domanda io non mi ricordo però e comunque ecco riuscire a dare una tua visione sicuramente dà un tocco in più ecco alla 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 storia ci sono un paio di scene dove per renderla hai fatto delle robe molto all'olio e benji tra l'altro no ecco esatto ma perché ti spiego porto le tavole al dal mio maestro diciamo della scuola del fumetto per per fargliele vedere e chiedergli comunque dei consigli e lui mi dice sono belle però oggi sono un po' un po' statiche e allora ho recuperato appunto i i fumetti di olio e benji che sono esagerati ho cercato di di trovare una un compromesso forse ho esagerato anch'io non lo so perché magari arrivano così all'improvviso però ecco aggiungono un po' di sono acceso sono acceso è stato no cioè momenti all'olio e benji sono fantastici infatti c'è una scena c'è una scena Roberto Baggio appare in olio e benji ed è l'unico calciatore citato con il nome vero giura giuro giuro lo sapevo lo sapevamo tutti di Ranete all'editore l'abbiamo venduto cioè dobbiamo vendere il fumetto e abbiamo detto guarda è igort mischia toglie benji firmato subito è quaderni giapponesi col pallone dentro però però pallone che va forte esatto vai tu vado io vai pure ti lascio campo libero grazie allora l'hai citata tu quindi la serie netflix sì il film allora su su questo cosa ne pensate perché insomma questo da un lato è l'anno di Baggio ci sono gli europei sembra quasi che sia morto sembra quasi che sia morto no vabbè buon'anima no non è vero cosa ne pensate della serie e soprattutto quando si deve trattare una figura del genere per cui spesso il racconto risulterebbe magari anche ageografico qual è anche il difetto di Baggio che individuate personale pure duro magari puoi dire che il cotino non ti piace e che gli sta malissimo che sta cosa del buddismo proprio eh non la digerisci quello che vuoi quello che volete vai 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 allora è film Netflix io l'ho guardato solo perché sapevo che me l'avrebbero chiesto questa presentazione perché sono una persona orribile sincerità eh allora pensando che probabilmente il pubblico Netflix sia anche abbastanza giovane quindi magari Baggio non l'ha mai visto giocare o forse neanche purtroppo non lo sente neanche più parlare eh per uno che viene da Marte secondo me il film di Netflix fa quello che deve fare cioè racconta quello che dicevamo integrità umanità lo fa personalmente da sceneggiatore diciamo avrei preferito un un po' più di calma perché in un'ora e mezza hanno dovuto inserire tante cose per raccontare appunto questi questi due principali caratteristiche e per farlo hanno accentuato molto il conflitto col padre all'inizio e il conflitto con Sacchi andando un po' magari a modificare le piccole cose perché serviva un antagonista la protagonista e secondo me cioè però questa cosa è interessante perché a me ha fatto capire che a me Baggio affascina perché proprio cioè secondo me sarebbe bellissimo raccontare anche solo Baggio senza le figure attorno a lui perché è un eroe io ne parlo spesso come un eroe dei miti greci ha questa dinamica nella sua vita se mi fosse inventato la storia di Baggio qualsiasi persona mi avrebbe detto vabbè che esagerato però anche meno è realistico invece è assurda sembra uno di quei film sullo sport americani dove uno ci crede così tanto che alla fine ce la fa poi tu studi la storia ci sono delle coincidenze assurde e dei paradossi incredibili quindi il film siccome è sufficienza la riceve sull'effetto di Baggio posso pensarci mentre risponde Nicolò certamente vado allora a me è piaciuto molto il il film e infatti continuavo a scrivere a Mattia di andare a vederlo ma non mi ha ascoltato fino a qualche giorno fa perché in qualche modo analizza più la sua figura a livello personale il rapporto con il padre comunque come ha vissuto lui tutte tutte le situazioni che gli stavano accadendo e mi rendo conto che io che conosco la storia che diciamo ho studiato e ho fatto un fumetto e cioè so la storia anche per quanto riguarda magari le squadre che ha girato i mondiali che ha fatto cosa gli è successo ai mondiali ecco forse nella nella serie si analizza poco l'aspetto calcistico del 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 personaggio infatti confrontandomi anche con degli amici mi dicevano eh però magari potevano parlare più di questo hanno saltato questo effettivamente ci sono degli stacchi di di tanti anni però a me è piaciuto molto mi quasi mi emoziono quando gli tra pattoni gli dice che non che non che non lo porterà ai mondiali e secondo me è una è un'ottima pellicola ecco uno spoiler ah sì non lo sapevate non so se conta vabbè no allora la gente sa nel mondo che Baggio tra pattoni non l'ha portato ai mondiali portando altra gente è andata come è andata quindi sappiamo questa è storia quindi non è spoiler il difetto di Baggio il difetto di Baggio ce l'ho ce l'hai? no allora sono di parte sono un tifoso ma è oggettivamente tra l'altro il calciatore più amato nella storia d'Italia quindi su questo non mi si può dire nulla portatemi i dati fate quello che volete non mi frega niente l'unico difetto forse è stato far venire un mezzo infarto a Mazzone in cui Brescia Atalanta 3 a 3 che tra l'altro incredibilmente nel film non c'è perché e non capisco mettete altri 10.000 euro fate sta scena con Mazzone che corre Mazzone Martufello io il film non l'ho visto non c'è la scena di Mazzone che corre? diventava virale subito infatti non capisco perché l'unico difetto ti quella nel trailer e resti vendendo da solo l'unico difetto secondo me è stato quello aver fatto venire un mezzo infarto a Mazzone quoti anche tu allora adesso facciamo una domanda più scomoda il nostro regista diceva aver giocato alla Juve ma questo rimane tra di noi insomma qual è stato il miglior baggio calcisticamente parlando? escludendo Brescia dai su perché perché se no siete di parte tu dici quale dei due baggio no no qual è stato il miglior Roberto Baggio escludendo Brescia perché qualcuno è di parte credo gli anni alla Juve erano quelli della maturità quindi spiace scusa pieno scusa erano quelli della maturità quindi appunto riusciva a vinto il pallone d'oro per per ovvi meriti era lì ha vinto la Coppa UEFA con la Juve aveva tutta la potenza muscolare della gioventù ancora comunque aveva 25 anni se non erro però era diventato maturo per cui quei quattro anni alla Juve alla fine credo siano stati quelli più ecco appunto alla fine ha vinto il pallone d'oro e credo meritato che io sicuramente dico quegli anni lì perché ha vinto il pallone d'oro però il cuore mi dice gli anni di Brescia per favore non posso rispondere altrimenti i migliori sì ce li siamo vissuti bene no poi Brescia insomma era bellissimo giocava per anche gli altri cioè serviva dei palloni incredibili fantastico vuoi raccontarci un aneddoto su Baggio Brescia a parte Pirlo e Baggio anzi posso dire io avevo una domanda ancora più mirata posso? prego cioè creiamo dell'humus emotivo perché se no c'è tempo non possiamo ah no no ecco dice un po' 50 vabbè che ce frega allora il vostro primo ricordo legato a Roberto Baggio vabbè apro io dicendo avevo sei anni e ha sbagliato un ricore proprio cioè però io avevo sei anni e per la prima volta colpa tua che sei vecchio sono vecchio per chi è seduto qui però me lo ricordo perché è stato la prima volta che ho seguito la nazionale che giocherà stasera il mio ricordo più vecchio legato a Roberto Baggio è Mattia che mi dice vorrei fare un fumetto su Roberto Baggio quello perché sei giovane esatto il primo ricordo io credo veramente questo è molto molto personale però mi fa molto piacere raccontarlo creiamo questo momento la Barbara D'Urso esatto io giocavo alla Playstation ma avevo la Playstation 1 in casa fino all'anno 90 e invece di FIFA subito dopo avevo iniziato a prendere PES e c'erano i nomi sbagliati ma Baggio lo riconoscevi per il codino e quando io segnavo con quando facevo gol con Roberto Baggio esultavo perché sapevo che mia mamma era una fan di Roberto Baggio e quindi anche lei esultava con me però aveva fatto gol con i videogiochi è una passione che viene da tua mamma un pochino ma era le piaceva come figura umana che è un bel uomo però poi è esplosa quando è arrivata a Brescia ne ho altri 25 se volete non è un problema un primo può essere per definizione no aneddoti emotivi su Roberto Baggio facciamo una rubrica facciamo un podcast appositamente io penso che se il primo non so perché ma è quando l'ho visto allo stadio prima non so perché non me ne vengono in mente anche se comunque ha giocato tantissimo però sicuramente quando l'ho visto allo stadio la prima volta non c'ero nel 3-3 contro l'Atalanta però non mi ricordo la partita comunque è la prima volta che l'ho visto giocare allo stadio ecco abbiamo due tra l'altro due primi ricordi molto diversi posso dire sì sì per una volta tutti e due molto nazionalpopolari però da due se volete il mio ricordo più vivo è un altro è diverso il tuo ricordo più vivo è legato sempre a quel gol alla Juventus al primo aprile 2001 io avevo dieci anni quindi la mia vita era scandita dal calcio giocare a calcio con gli amici all'oratorio e quindi fine settimana sabato e domenica pomeriggio si giocava a calcio all'oratorio fino a quando calava il sole intorno alle 6 e si andava nel bar dell'oratorio a vedere il novantesimo minuto è chiaro e mi ricordo quella sera siamo arrivati lì abbiamo visto c'era il novantesimo minuto io aspettavo ovviamente di vedere cosa aveva fatto il Brescia viene uno a uno e a un certo punto vedo in tv quelle immagini di quel gol incredibile e cioè quando io penso a giocare a calcio mi collego a quel ricordo e a quell'età comunque quando gioco con gli amici sempre nei campetti scrausi ovviamente parcheggi che si trovano così forse è stato un imprinting a livello emotivo su cos'è il calcio per me il calcio per me è quello giocare con gli amici e poi vedere a un certo punto vedere dei fenomeni che fanno delle meraviglie con la maglia della tua città bello questo funziona meglio la prossima intervista usa questa secondo me cioè bella la cosa dei PES però insomma e no no vai 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 tu vuoi fare una domanda no no vai 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 la farò dopo io la sto no no vai 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 una domanda no no siamo preparati benissimo comunque no fai fai no volevo chiedere qual è la tavola di cui sei più fiero ah ok bella questa la tavola di cosa perché non lo sapessero le tavole sono le pagine nel nei fumetti penso quella dove c'è il il suo volto diviso a metà quindi in due vignette e niente quella mi è venuta particolarmente bene se volete sapere qual è potete acquistare una copia di questo fantastico volume nella libreria di Sherwood o se state ascoltando dopo Sherwood da casa la trovate su internet su beccogiallo.it esattamente o su altri siti di cui non citiamo il nome esatto o comunque siamo qui un altro mese quindi lo trovate comunque in libreria Sherwood lo dico perché invece qui fisicamente quest'oggi nel fumetto mondo eh per chi non lo sapesse è tipico è tradizione che se il disegnatore è presente si faccia un piccolo disegno inedito e originale all'interno del libro nella dedica lo dico perché magari qualcuno dei qui presenti ha voglia di acquistare una copia con un piccolo sconto posso dirlo a livelli legali certo e con un disegno di Nicolò e una dedica di Mattia che è quello che scrive è come i carabinieri uno legge uno scrive uno scrive uno disegna io indico faccio tu indichi dove fare il disegno e questo chiaramente questo lo dico per chi ci segue qui fisicamente avevi una domanda però prima no come no non ce l'avevo più vuoi che faccia una domanda si puoi fare una domanda no non lo so abbiamo tempo lo chiedo alla nostra regia non abbiamo tempo non abbiamo tempo meglio così e allora potevo chiedere una stronzata chiedo al nostro pubblico se ha delle domande e anche perché non c'è tempo ci ha detto il regista non c'è tempo quello ha detto quattro volte la cosa migliore è quella con la Juve il regista ci ha tagliato contro la Juve contro la Juve quindi dovrebbe darci più tempo in teoria contro la Juve ha capito male non hai capito non ho capito male e ha capito male anche il regista che ci ha tagliato ultima domanda che è veramente una cavolata avete pensato di convertirvi al buddismo dopo aver letto così tanto e studiato così tanto su Baggio essendo ricordo a tutti il buddista più famoso in Italia tuttora perché più del Dalai Lama Dalai Lama e poi c'è Baggio no va bene è lavorazione Baggio 2 no ok no Dino Baggio stiamo pensando è il lavoro su Dino Baggio ecco anche questa farete un lavoro su Dino Baggio ci stiamo ragionando soprattutto col comune di Campo San Piero perché se non erro è originario di Campo San Piero stiamo in questo momento un po' di fondi europei stiamo lavorando in uscita per il 25 29 febbraio dobbiamo capire quando esce il film su Netflix su Baggio L'altro va bene va bene e grazie a tutti e tutte per averci seguito online in diretta video e radiofonica e grazie a voi che ci avete seguito invece fisicamente dallo Sherwood Festival ricordiamo che domani domenica 27 è Gagliardi Autoproduzioni Sherwood Padova Mattia sarà presente ancora qui con noi perché purtroppo non ha di meglio da fare per la sua vita e quindi per chiunque voglia farsi fare una dedica scritta potrà firmarvi in copia anche domani però siateci domani siateci ci sono un sacco di banchetti di autoproduzioni un sacco di fumetti mostre presentazioni insomma chi più ne ha più ne metta si apre alle 17 praticamente all'alba grazie a tutti e tutte per averci seguiti questo è Sherwood e grazie Mattia grazie Nicolò grazie a voi grazie a voi grazie a tutti